Siamo ancora sul pitch? È stato difficile per me. Un anno non mi spiego, quindi volevo divertirlo. Era 6-7-0. Quindi sono 15 minuti e ho cercato di spiego. E' stato molto divertente. Ma ok, mi piace. Vuoi spiego in gioco? Non, non, non. Penso che sarò più concentrato. Perché se spiego, non sarò più concentrato per essere gioco. E' stato un gioco amico. E' questo motivo mi spiego. Ok? Grazie.